Ciao a tutti, lasciate un like o seguite il canale se l'avete ancora fatto Questo è uno dei nostri prodotti, uno dei tanti prodotti In descrizione vi lascerò tutti i link per l'acquisto su ebay o su tutti i nostri social Classico sandalino tutto in vero cuoio, infradito, allaccio alla schiava Tacco con 2 mm di gomma, antiscivola, tutto molato a mano, alla perfezione, molato a mano Veramente fatto bene, bellissimo, molto bello Tomaia in pelle verniciata, colore silver, rinforzata La lunghezza poi quando viene messa alla caviglia, se è troppo lungo lo volete tagliare come volete Uno dei nostri prodotti più venduti, questi vanno a ruba Tutto cuoio toscano, tutto made in Italy Prezzi più bassi possibile, ma c'è tanta madre opera, ma prezzi mi sembra partano da 37 euro Fino a 45 euro, se volete la pelle nella tomaia, questa qui è verniciata Insomma, c'è suo vantaggio anche questa qui, magari più brillante, tutto Rimane al piede legata alla caviglia senza scendere Insomma ci sono dei vantaggi, però la vera pelle è un'altra cosa Qui ci sono diversi colori come oro, bianco, rosso, nero, marrone, marrone, marrone o scuro Insomma, diversi colori Al piede è veramente bello 37 euro, prezzo base, poi c'è con l'accessorio, con il materiale della tomaia Insomma, siamo in tamponino, mi sembra un massimo a 45 Più 8 ore di prespedizione, insomma, sandalino di qualità Grazie a tutti